La vittoria di Lagalla è il risultato di una mobilitazione di tutte le forze politiche del centro-destra ma è anche il premio al lavoro di un uomo che in quasi cinque anni nel mio governo ha guidato con grande autorevolezza l'assessorato alla istruzione e quello alla formazione. Quindi Roberto ha raccolto quello che ha seminato e sono convinto che saprà essere davvero un buon sindaco. L'astenzionismo è un dato fisiologico, si accentua sempre di più perché c'è una larga fascia dei cittadini che non si ritrova nella proposta politica. Dobbiamo tutti rifletterci. Io credo che la politica debba preoccuparsi di fare ciò che è giusto e non ciò che è utile. Deve preoccuparsi di interpretare le esigenze di tutti ricordando che non sempre i desideri diventano diritti. E la politica soprattutto deve essere credibile. La credibilità passa attraverso la storia di ognuno di noi. Non è una merce che puoi comprare al supermercato in campagna elettorale.